Lo sento, cioè la squadra deve stare solo una volta. Abbiamo una buona squadra che può far male a qualsiasi squadra che probabilmente deve salire un po' di autostima. In questo momento magari manca. Credo che si possa lavorare bene, senza non togliere il lavoro che ha fatto Braia, che è un ottimo allenatore. Ma si sa che il nostro lavoro è fatto di risultati, a di là di tutto, perciò quello che conta è sempre quello, cercare di iniziare partite, sennò non conta niente quello che uno fa su un campo.